Questa tre giorni che si tiene a Sovereito al camping è una iniziativa interessante. Potremmo definirla politica o anche sociale? La possiamo definire assolutamente politica anche perché insomma avremo esponenti quali appunto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli e tantissimi altri esponenti al panorama politico italiano. Sociale assolutamente e si va ad aggiungere a tutte le altre iniziative che in questi anni di attività del circolo abbiamo provato a mettere in campo all'interno del circolo Archenather Beach Project. Diciamo che l'obiettivo del circolo è quello di aprirsi il più possibile alla comunità tutta. Un nuovo tipo di fare vacanza, un nuovo modo di pensare alla vacanza. Si va a mare, si ci diverte, però è un modo per incontrarsi e scambiare quattro chiacchiere ma anche appunto capire insieme il modo per crescere e affrontare la società di oggi che insomma non sembra esserci molto rose. In tre cimeridiani nasce appunto da un incontro anche questo, siamo contentissimi di averlo all'interno del circolo e siamo contentissimi di averlo anche quest'anno che il circolo appunto ha avuto già un'altra esperienza di condivisione come quella del Riot Village, avuta a luglio che ha visto la partecipazione di tantissimi studenti all'interno del campeggio con lo svolgersi di due importanti congressi. Da queste tre giorni ci aspettiamo appunto dei momenti di confronto che possano essere utili a quanti coloro verranno a partecipare. Diversi gli argomenti che saranno trattati? Diversi gli argomenti che saranno trattati assolutamente, diciamo che si andrà a parlare delle politiche ambientali piuttosto che appunto della necessità più che altro di trovare e ritrovarci a sinistra di trovare appunto degli spazi che possano esserci amici e che possano appunto favorire l'incontro tra le persone.